La tua tecnica è all'avanguardia. Investigare i non morti è vecchio stile. Cosa c'è? Spegni le luci. Papà! Oh, mio Dio. Papà! Chi ha ucciso mio padre? Un lupo mannaro. Un lupo mannaro? Come quelli dei film. Ah, giusto. Tu e l'argento non andate d'accordo, vero? Guardate attorno. I mostri che trovi nei libri sono reali. E sono tra noi. Lupi mannari, vampiri, zombie. Sono dappertutto. No! Marcus, tu sei uno zombie. Magari è solo influenza. Non dovrebbe mica spalarmi. Prendi questo talismano. Finché lo avrai addosso, non potranno toccarti. Provatemi quella ragazza. Portatela. È lei la chiave. È arrivata l'ora di usare il cuore di Belial. Belial è il più potente dei demoni. Tutto ciò che gli serve per ritornare tra noi è un corpo che lo ospiti e il cuore. E Belial vuole tornare! Chiunque controlli Belial controlla il mondo. Dylan! Allora qual è il piano? Non serve un piano. Solo pistole più grandi. Abbassati. Cosa? Abbassati.